Sono con Gianfrancesco Lazzotti, regista e poi una presenza ormai consolidata alla Magna Grecia Film Festival. Lei l'ha visto quasi nascere questo festival, vero? Non proprio nascere, io ne ho sentito parlare fin dall'inizio e poi ci sono state presenze illustri, qui c'era Gregorette, c'era Scola e me ne parlavano loro. Poi io sono diventato calabrese di adozione perché sono venuto qui con un film 4-5 anni fa e questo film ha sorpresa, insomma ha sorpresa mia, almeno ha vinto il primo premio al festival e da quel momento per me è diventata una consitudine, non potendo più arrivare con un altro film, anche perché erano opere prime e seconde, sono venuto in veste di giurato perché Casadonte mi ha precettato con questa funzione. Come ho detto prima, per me, a parte la bellezza del posto, da parte che è bello vedere un film in una piazza e condividere la visione con 1500 persone, che non è che succede tanto spesso, ma in più è anche l'occasione per incontrare gente che fa questo mestiere, per vedere film che non avevo avuto occasione di vedere o che sono stati mal distribuiti, insomma è qualcosa di più di un festival o di una rassegna, è veramente un posto dove possono accadere delle cose. Per quello mi auguro che cresca nel tempo e che diventi veramente un appuntamento di cui il cinema italiano non potrà fare a meno. Davito Casadonte in conferenza stampa parlava di farlo diventare internazionale, quindi addirittura europeo. Secondo lei è una cosa fattibile? Secondo me è assolutamente fattibile. Io credo che poi i problemi non sono solo nella nostra cinematografia, ma sono anche nelle cinematografie europee, allora la cinematografia diventa più forte se con le coproduzioni, con l'incontro di risorse che vengono da più parti, per cui sarebbe molto bello se questo diventasse il luogo in cui si incontrano realtà diverse, si mettono insieme. È chiaro che oggi i film sono un film internazionale, c'è una possibilità di vivere e di sopravvivenza, assolutamente superiore al film che viene consumato solo sul territorio nazionale. Quindi sarebbe veramente un'occasione importante, che renderebbe più importante in Magna Grecia, ma che renderebbe anche un servizio importante al cinema.